Bella ragazzi e benvenuti in questo video, sono Expiron e oggi siamo qui per un ultimo vlog in questo canale appunto perchè finalmente sono tornato dopo penso due mesi e finalmente direi non so che dire appunto in questo vlog anche perchè dovrò cambiare canale e ho fatto questa decisione e questi due mesi sono serviti un po' per farmi riflettere, un po' per insomma per la scuola, per studiare perchè avevo molte materie sotto che ora ho recuperato e che spero che ormai sia passato quest'anno che verrò promosso comunque rimanato a settembre poi sperando di essere promosso ecco e oggi appunto io volevo parlare del perchè cambiare canale, come si chiamerà, che alla fine si chiamerà più o meno uguale con un'aggiunta e insomma come si chiamerà il link per iscrivervi, lo cambierò semplicemente perchè c'erano molti appunto iscritti, iscritti c'erano molti iscritti inattivi appunto e non mi sembrava bello vedere tipo 1900, 2000 iscritti e poi vedere 100 visual, a volte anche 200 visual a video quando c'erano appunto i vecchi video di COD, vecchi, di Arrotto Prestigio di quest'anno appunto e nulla appunto ho deciso di cambiare per questo, creare un nuovo canale dove mi incentrerò soprattutto su alcuna tipologia di giochi che sono risparatutto, soprattutto Overwatch e COD, appunto uscirà adesso Infinity Warfare a 4 novembre comincerò a giocare a quello, magari anche a Battlefield perchè ho visto che è molto figo con il trailer di Battlefield ma questo parleremo nel prossimo, nel nuovo canale appunto e vi mando mercoledì andate appunto sul nuovo canale perchè ci sarà appunto il mio punto di vista, appunto, punto, vabbè il mio punto di vista su Battlefield 1 contro Call of Duty Infinite Warfare e non vi voglio ancora spoilerare nulla però secondo me hanno sbagliato quelli che hanno messo dislike su COD cioè, vabbè, poi non voglio creare dibattiti ora quindi siamo un po' in silenzio sono cambiate molte cose in due mesi che vi parlerò qua perchè appunto non mi sembra opportuno parlarne nell'altro canale dato che non mi conoscono alcuni, molti che verranno a vedere il nuovo canale per chi non conoscesse Overwatch è un gioco sparatutto appunto dovrei farci qualche video ora è finita la beta, se no avrei, vi avrei portato anche nuovi video su Overwatch per ora continuerò su COD fino al 24 maggio che è tra 8 giorni stavo guardando lo schermo molte cose sono capite appunto, l'ultimo mese diciamo che è stato un po' di riflessione un po' che volevo registrare i video su Overwatch ma non l'ho potuto perchè appunto il mio PC si è rotto, il mio vecchio PC l'ho comprato uno nuovo cioè, assemblato appunto che ora mi stanno arrivando i vari pezzi, mi manca qualcosa appunto la scheda grafica per ora sto riciclando quella del vecchio e poi arriverà quella nuova appunto che è la GTX 1070 che è fortissima, bellissima, levissima e nulla appunto, non vedo l'ora di questa cosa e niente, datemi supporto perchè cambio appunto canale e spero che vi riscriviate anche dall'altra parte quelli che stanno guardando questo video il nuovo canale si chiamerà Expiron penso, Expiron qualcosa tipo COD Overwatch Gameplay messo in... come si chiamano quelle cose là? come si... le... parentesi appunto le parentesi tonde messo parentesi tonda COD e Overwatch e OV sarà perchè Overwatch e OV è abbreviato appunto gameplay, troverete appunto il canale se non lo trovate vi lascio per ora il link sotto perchè appunto essendo un canale nuovo dove non ho caricato video ma ne verrà caricato uno stasera e dentro stasera verso le 9 dovrebbe uscire il primo vlog e... nulla, spero andiate nel prossimo canale nel nuovo canale appunto e... nulla, domani si parte già normalmente si rincomincia alla normalità e nulla, per oggi è tutto ci vediamo nel nuovo canale, bella